Ad alcuni detenuti del carcere di Sulmona sarebbero state negate le cure sanitarie. A denunciarlo è il Tribunale per i diritti del malato, che si è visto recapitare diverse lettere di protesta per segnalare questa situazione. Si tratta nello specifico di persone che hanno bisogno di cure specialistiche per particolari casi d'urgenza. Il responsabile dell'area legale del Tribunale del malato, Katia Puglielli, rende noto che verrà presentato un esposto alla Procura della Repubblica se non si dovesse trovare una soluzione. Viene chiesto di ripristinare tutto nella normalità al fine di garantire il diritto alle cure e alla salute. Il diritto del malato implica anche quello del malato detenuto, afferma il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, che sollecita la direzione carceraria ad intervenire al fine anche di evitare il ripetersi di simili episodi. Sarebbero oltre cinque i detenuti che si sarebbero visti negare l'assistenza sanitaria. La preoccupazione è che anche ad altri possa capitare la stessa cosa. L'Avvocato Puglielli annuncia di voler interessare della situazione il Tribunale tramite la Camera Penale di Sulmona per arrivare, se necessario, ad un esposto in procura.